Assessore De Santis comincia ufficialmente questa estate fondana, c'è stata la presentazione, un'estate ricca di eventi. Ma è un'estate ricchissima di eventi con notti magiche, infatti l'abbiamo chiamata le notti fondane perché è un'estate che grazie al contributo di tutte le associazioni prevede anche tantissime novità. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più accogliente il centro storico, non bastano sicuramente gli eventi, oltre agli eventi bisogna lavorare per una programmazione che si sta facendo, per una sistemazione. Sindaco, un'estate ricca di eventi che si esfolgeranno davvero in tutte le zone, le piazze di fondi? Un'estate che è già iniziata e credo che le prime battute diano l'idea di quanta attività sia stata programmata grazie alla collaborazione di tutte le associazioni culturali, sportive, sociali. Un calendario ricco che permetterà ai tanti cittadini e ai turisti in modo particolare di poter vivere ogni serata un appuntamento diverso. Secondo tutti i gusti, tra l'altro quest'anno abbiamo inserito nel coordinamento tutte le feste che si svolgono, non solo in tutte le piazze centrali, in tutte le piazze periferiche, in tutte le contrate. Quindi una possibilità che viene data a chiunque legge il programma di scegliere in quella sera quale programma e quale evento scegliere per poter passare una serata diversa. Assessore Maschietto, un'estate piena di eventi anche all'insegno del turismo? Beh sì, è un'estate molto ricca di eventi. Noi lo abbiamo fatto, come dicevo prima, per il nostro grande amore per la città di Fondi. Ma vogliamo che la città, come abbiamo detto prima, che è diventata un teatro all'aperto, sia una città che possa ospitare nel migliore dei modi tutti i nuovi fondani, ma soprattutto anche a tantissimi turisti. Quest'anno abbiamo riorganizzato, dopo qualche anno di stasi, l'ufficio turistico, abbiamo organizzato le visite guidate della città, abbiamo fatto eventi importanti, abbiamo creato altri eventi. Crediamo che ci sia spazio per tutti. Assessore Biasillo, un'estate di cultura, sport, musica, davvero c'è di tutto. Sì, è un'estate ricca di eventi, un'estate 2011, veramente ricchissima di grandi novità e di grandi eventi. Con lo sport viene coinvolto un po' tutto quanto il centro storico e si arriva con le manifestazioni sportive fino alla nuova piazza al Città dei Gasperi. La musica è su tutte le piazze più grandi e quelle più piccole del centro storico e fuori dal centro storico. E poi la novità in assoluto è che forse è proprio quella delle contratti che si sono attivate veramente con manifestazioni importanti e interessanti su tutto il territorio di fondi.